Una firma che apre le porte ad una maggiore sicurezza sul posto di lavoro, un protocollo d'intesa tra la scuola edile CPT di Padova e l'INEL regionale, un accordo di collaborazione per progettare, promuovere e accompagnare l'asseverazione, ovvero una certificazione su base volontaria che comunica l'impegno dell'impresa per la prevenzione, per la salute, per la sicurezza. L'asseverazione certifica le operazioni che avvengono in cantiere, cioè ci sono dei tecnici che escono, vanno in cantiere, verificano se quello che è stato dichiarato dalle aziende che hanno richiesto l'asseverazione si fa. È un segno di cambiamento, è un segno che le istituzioni cominciano a guardare alle imprese con uno spirito diverso, non solo di controllo e di verifica ma anche proprio di aiuto. Per raggiungere questi obiettivi occorre far crescere all'interno di ogni impresa che aderirà a questo percorso volontario delle figure professionali attraverso un percorso formativo di 48 ore che si terrà presso la scuola edile di Padova. Naturalmente il percorso previsto al progetto non sarà facile e richiederà un adeguato impegno da parte delle imprese edili aderenti che ne trarranno benefici, dando una mano alla riduzione delle morti sul posto di lavoro. L'anno scorso noi abbiamo indennizzato 16 infortuni mortali, 8 in itinere ed 8 lavorativi. Ebbene di questi 8 lavorativi 3 hanno riguardato il settore delle costruzioni. Questo progetto è un ulteriore passo avanti per cercare di ridurre quelle morti bianche quando alla mattina il lavoratore va a lavorare e alla sera non torna più a casa. Noi abbiamo un compito molto importante di ridurre notevolmente questa piaga. Per le imprese che vorranno aumentare il loro livello di sicurezza non ci saranno costi se non quelli indiretti del personale. Questo accordo serve anche a sfatare l'aspetto della sicurezza uguale costi perché oggi sulla sicurezza non c'è mai fine sull'investimento. Credo che sia importante in un'Italia che è in ripresa da una crisi con un'edilizia che in questo momento tra l'altro avendo ancora facendo un po' fatica ha il tempo anche di fare formazione. Quindi probabilmente all'interno di questo discorso c'è la cosa giusta al momento giusto. Il codice degli appalti all'articolo 95,6 suggella e consente in buona sostanza alle pubbliche amministrazioni di premiare imprese che presentino migliorie ai rispettivi progetti nelle offerte economicamente più vantaggiose ispirate anche a un concetto di qualità che tra gli altri elementi è anche fondato sull'asseverazione. Asseverazione dunque anche come requisito per partecipare ai bandi di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici per raggiungere un duplice obiettivo maggiore sicurezza nei cantieri e sostegno concreto al comparto delle costruzioni.